questo bellissimo cagnolino che vedete qua è molto socievole si chiama rio guardate che bello questo cagnolino qua è un cagnolino di taglia media contenuta è un cagnolino di mezza età diciamo così e non è anzianote ancora giovane rio lui si trova al baudi alpignano sta aspettando un'adozione rio è un cagnolino che va molto a simpatie lui quando incontra una persona che gli piace eccetera è socievolissimo se invece incontra una persona che non gli piace lui fa lo scontroso assolutamente rio non è aggressivo è perché lui è proprio un bravo cagnolotto però è lunatico a rio se mi viene così vicino non riesco a filmarti che ti viene un nasone e poi non ti prende nessuno lui è lunatico è vero diglielo un po ho le mie paturnie io vado un attimino così se mi sei simpatico vengo anche in passeggiata se non mi sei simpatico mi dispiace ma proprio non ci vengo e guardate che carino che è rio fatti vedere di fisico rio è un bellissimo color fulvo guardate che bello che è rio è un bellissimo cagnolino è tato è bravissimo questo rio lui va tanti bocconcini le macchine vanno benzina e vanno a diesel cioè lui va bocconcini quindi se volete farmi filmato tanti bocconcini se non niente video è vero patato fatti vedere allora rio si trova al baudi alpignano venite a conoscerlo è un cagnolino un momento perché abbiamo una pulcetta che prude scusate venite a conoscerlo lui si trova al baudi alpignano adesso un attimino poi vi saluta con molta calma ecco che prudeva tantissimo eccoci ciao a tutti allora mi raccomando vi aspetto venite a conoscermi ciao